perfetto possiamo partire allora intanto buonasera essendo una nuova platea diciamo che cercherò di con questa presentazione di allineare diciamo gli spettatori con la mia idea diciamo di approccio alle malattie in modo tale da rendere tutto fruibile anche a livello in modo molto semplice è un argomento abbastanza delicato quindi diciamo che io lo tratterò in modo un po' un po' goliardico anche ogni tanto cercherò di far riflettere cercherò di non prenderlo troppo sul serio perché sennò poi la roba diventa troppo pesante e quindi diciamo che cercherò di essere molto leggera nel trattarlo tratteremo questo argomento che si chiama praticamente il titolo è di cosa si nutre il tumore il tumore diciamo che il nutrimento del tumore è un argomento molto vasto in realtà vedremo che non toccherà soltanto la sfera del corpo e diciamo che ci accompagneranno man mano che io vi racconto diciamo e vi vi illustro tutti quanti gli aspetti di questo nutrimento ok vari concetti vi introdurrò in alcuni concetti diciamo che magari vi possono suonare nuovi o magari per alcuni dice ah ma questo qui io l'avevo intuito grazie della conferma essenzialmente io sono biologa ok sono biologa sono nata come biologa molecolare e il mio percorso è stato un percorso che in realtà mi ha portato molto lontano da quella che è la mia specializzazione di laurea perché perché in realtà io con la mia laurea che cosa volevo fare cioè nel senso in realtà tutti quanti abbiamo un perché facciamo qualcosa non è che lo facciamo perché ci ritroviamo e il mio perché era che volevo aiutare le persone a stare veramente bene a liberarsi dalle loro malattie e imparare a gestire la propria vita senza farmaci quello che mi guidava in questa idea è che in realtà io non amo molto il sistema medico questo è la vera il mio vero motore e tra l'altro ho una curiosità enorme verso qualsiasi cosa che è l'essere umano il funzionamento del corpo le potenzialità umane l'unione diciamo di questa mia paura verso il sistema medico e la mia curiosità praticamente ha portato a passare da quella che è lo studio della genetica che è quello che mi ha portato diciamo gli studi universitari a lavorare su quello che è un concetto di epigenetica che cos'è l'epigenetica? come vedete io avevo messo un elefante ok l'elefante che cos'è? l'elefante nella stanza ok mentre la genetica noi sappiamo che sono dei simpatici pezzettini di DNA che che praticamente in qualche modo si esprimono all'interno delle nostre cellule dando praticamente le funzioni singole di ciascuna delle nostre cellule e in coordinazione con loro in realtà in pochi sanno che cos'è l'epigenetica in realtà l'epigenetica è l'insieme di tutto ciò che facciamo degli stimoli che riceviamo e delle risposte che questi stimoli generano all'interno del nostro corpo modulando l'espressione del DNA quindi in realtà possiamo dire che è tutto è la nostra vita ogni singola variabile della nostra vita per questo che l'elefante nella stanza dice quando uno dice non trovo la correlazione in realtà perché è tutto è correlato a quella che è l'espressione dei nostri geni e quindi è difficile da capire quello che è importante ed è fondamentale consapevolizzare per comprendere che cos'è l'epigenetica è che in realtà il fatto che le variabili siano così numerose e siano così intersecate le une con le altre impedisce praticamente di fare quello che è il lavoro che normalmente fa un ricercatore in laboratorio perché? perché in laboratorio noi facciamo questo i noi ricercatori prendiamo una variabile la isoliamo da tutte le altre e poi la andiamo a studiare specificatamente quella variabile lì nella vita e nella pratica clinica in realtà questa cosa non si può fare perché noi in realtà viviamo in un mondo di variabili assolutamente non isolabili le une con le altre ma che praticamente interagiscono insieme quindi in realtà quello che ho cercato di fare nonostante le difficoltà comunque è quello di applicare il sistema scientifico di ricerca scientifica nella pratica clinica che cosa vuol dire semplicemente io quello che cercavo di fare è cercare di capire che cosa funzionava su un certo numero di persone vedere se funzionava su un altro numero di persone e se non funzionava cercavo di capire perché non funziona perché su quelle persone funziona e su queste no e questi perché continui ok gli hanno permesso di arrivare a quello che poi io vi dirò oggi essenzialmente quello che è importante ed è fondamentale capire quando si parla del lavorare su il miglioramento della propria salute è che non si può fare un lavoro sulla malattia senza fare un lavoro sull'individuo cosa vuol dire questo vuol dire semplicemente che noi non possiamo curare la malattia senza curare la persona che porta questa malattia perché perché se noi curiamo la malattia molto banalmente senza dare una struttura al corpo e all'individuo che la sta portando in realtà non riusciamo a liberare l'individuo dalla malattia ma semplicemente l'individuo tende a soccombere alla malattia stessa quindi bisogna rafforzare l'individuo perché sia l'individuo stesso a combattere la malattia molti terapeuti diciamo non hanno la consapevolezza che in realtà loro non sono in grado realmente di guarire nessuno dei loro pazienti se non è il paziente stesso che permette il processo di guarigione quindi questa cosa della responsabilità di ciascun individuo verso la propria salute è fondamentale mentre andiamo a lavorare sull'individuo è il processo di autoguarigione l'autoguarigione non è una magia quando uno pensa all'autoguarigione se vabbè dai ma figurati se io sono in grado di guarirmi da solo in realtà è un processo che è insito all'interno di ciascuna delle nostre cellule in realtà il nostro corpo lo sa fare veramente benissimo da sempre ok tant'è che noi siamo vissuti per milioni di anni in realtà senza medicine quindi in realtà il processo è andato talmente tanto bene nei milioni di anni che noi non ci siamo istinti prima dell'arrivo delle medicine ma in qualche modo abbiamo disimparato abbiamo spento questo processo tramite le nostre azioni il nostro modo di vivere le nostre abitudini il contesto nel quale praticamente piano piano siamo andati a calarci un concetto fondamentale per comprendere come andare a lavorare sulla propria malattia è in realtà iniziare a ridefinire il concetto di malattia perché in realtà la definizione che è stata data alla malattia fino ad oggi è stata sbagliata cosa vuol dire questo perché è sbagliata è sbagliata perché dice che la malattia è determinata da un malfunzionamento del nostro corpo in realtà questo non è assolutamente vero la malattia in realtà è la risposta sana di un corpo sano a sollecitazioni sbagliate cosa vuol dire questo? che il corpo in realtà in ogni momento in ogni momento della nostra vita in realtà risponde nel miglior modo possibile con le risorse che ha la parte importante ed è fondamentale consapevolizzare è che in realtà sta a noi dargli le risorse per poter fare al meglio il suo lavoro quindi in realtà noi pensiamo di essere non potenti e non in grado di liberarci dalla nostra malattia ma in realtà l'unica cosa che dobbiamo comprendere è che dobbiamo dare al nostro corpo le risorse giuste per potersi autoguarire ok quali sono le tre funzioni principali del nostro corpo le prime funzioni sono quella del riparo i tessuti la seconda importante è la pulizia quindi il corpo si pulisce regolarmente e la terza funzione fondamentale è la difesa mentre le prime due funzioni sono fondamentali praticamente e sono alla base del lavoro quotidiano del nostro corpo cioè sono le funzioni che il nostro corpo dovrebbe svolgere tutti i giorni regolarmente un po' come noi puliamo casa regolarmente o dovremmo farlo ok il nostro corpo praticamente ha questa funzione regolare di pulizia e buttare via il vecchio il rotto ok queste funzioni base però vengono soppiantate regolarmente quando ogni volta che subentra una funzione che è una funzione di allarme in realtà che è quella della difesa cioè nel momento in cui il corpo è chiamato a difendersi dagli attacchi esterni in realtà le funzioni quelle diciamo base vengono rimandate a posteriori quindi per adesso non ci penso penso a difendermi per poi ritornare ai miei lavori base è chiaro che se noi ci troviamo perennemente in uno stato di allerta e di allarme e quindi perennemente in una condizione nella quale ci dobbiamo difendere dagli attacchi esterni è chiaro che tutte le funzioni di pulizia smistamento smaltimento eccetera eccetera ripristino rinnovo che sono la base del funzionamento diciamo quotidiano del nostro corpo vengono continuano ad essere rimandate questo che cosa comporta? chiaramente comporta che il nostro corpo piano piano accumula immondizia essenzialmente dove per immondizia organica che cos'è l'immondizia organica? sono cellule che non funzionano sono cellule che intossicate sono cellule dissidenti che cominciano a creare dei programmi che non sono proprio quelle per le quali sono preposte e quindi diciamo che si generano quelle che sono le malattie oncologiche si generano quelle che sono le malattie autoimmuni degenerative e tutte quante quelle malattie che in realtà sono a carico del sistema immunitario ovvero del processo infiammatorio l'infiammazione che cos'è o meglio il sistema immunitario da che cosa è formato e poi che cos'è l'infiammazione il sistema immunitario è composto da tre parti principali due sono le prime difese e sono gli epiteli che sono praticamente le mura di cinta del nostro corpo un po' come se fosse un castello esempio il primo epitelio che noi conosciamo e possiamo vedere la pelle ma noi abbiamo l'epitelio intestinale abbiamo l'epitelio dello stomaco del fegato dei polmoni abbiamo l'epitelio buccale in realtà ogni epitelio è una sorta di parete ok che praticamente va a compartimentalizzare le varie parti del nostro corpo e separe il nostro corpo dall'esterno quando questi epiteli vengono danneggiati chiaramente è un problema e questo è il primo problema che può subentrare al nostro sistema immunitario l'altro problema che può subentrare sul nostro sistema immunitario in realtà è a carico della seconda componente che è il microbiota il microbiota che cos'è è tutto quell'insieme di microorganismi che popolano i vari distretti del corpo in pochi sanno che in realtà i microorganismi sono presenti sulla nostra pelle come sono presenti nel nostro intestino ma sono presenti nel nostro stomaco sui nostri polmoni nella nostra bocca in realtà ogni distretto del nostro corpo ha il suo pool di guardiani quindi microorganismi che presiedono quella porzione del corpo e hanno specifiche funzioni hanno specifici equilibri e questi equilibri devono essere mantenuti nel momento in cui le popolazioni all'interno dei singoli distretti corporei diciamo perdono il loro naturale equilibrio chiaramente si crea il secondo possibile problema a carico del nostro sistema immunitario diciamo che in un sistema immunitario perfettamente in equilibrio stavo dicendo normalmente in un corpo sano i nostri epiteli e i nostri microorganismi dovrebbero essere in perfetto equilibrio quando questo equilibrio si rompe chiaramente subentra l'allarme nel momento in cui subentra l'allarme viene attivato la terza parte del nostro sistema immunitario che è la cascata infiammatoria in realtà lei dovrebbe essere diciamo attivata solo in casi estremi cosa che in realtà questi casi estremi diventano pressoché quotidiani perché perché in realtà noi facciamo tutta una serie di errori per cui praticamente la cascata infiammatoria viene attivata regolarmente da che cosa poi lo vedremo nello specifico la cascata infiammatoria è un processo ordinato è un qualcosa che dovrebbe essere dovrebbe svolgersi in un modo ben preciso quindi dovrebbe avere un inizio uno svolgimento e una fine e dovrebbe autoestinguersi cioè nel senso dopo che ha finito il suo compito lei prende e se ne va ok quindi finisce così quello che succede è che alcune volte questa infiammazione non è in grado vuoi per mancanza di risorse vuoi perché le contingenze sono costantemente allarmanti per cui praticamente il corpo non riesce a come si dice non riesce a a spengere ed estinguere il fuoco dell'infiammazione e quindi persiste costantemente l'infiammazione si svolge in due fasi ben precise che sono molto importanti e sono importanti che si svolgano nella corretta sequenza e che nessuna delle due predomini rispetto all'altra la prima fase è una fase pro-infiammatoria diciamo che è quella che potrebbe essere assimilata a una guerra a una battaglia cioè c'è un invasore bisogna difendersi si combatte ci saranno morti feriti ci saranno macerie ok e poi subentra la seconda fase queste macerie vengono smaltite ok e poi viene ricostruito ex novo un nuovo tessuto un nuovo organo e di nuovo diciamo si ritorna in pace questo qui diciamo è l'assetto dell'infiammazione così come si dovrebbe svolgere in un corpo sano quindi che ha subito un attacco ma che sa svolgere in modo efficiente tutte quante le sue funzioni quello che succede diciamo in un corpo invece infiammato può essere ad esempio che non parte bene l'infiammazione quindi tutto il processo di difesa non avviene è quello che subentra soprattutto quando ci sono delle infezioni ricorrenti o magari che si insommano una sopra l'altra oppure può succedere che nel momento in cui termina l'infiammazione deve ripartire subito perché in realtà ci sono altri problemi che subentrano a rotazione quindi diciamo che non si riescono a completare i processi di ricostruzione che già bisogna ripartire per un'altra demolizione e quindi diciamo che in qualche modo i tessuti che si vengono a formare sono sempre meno performanti ok cioè nel senso il corpo non riesce ad aggiustarli perfetti ma praticamente diciamo che diventano come dei cerotti essenzialmente si chiama tessuto cicatriziale il tessuto cicatriziale è un tessuto ipofunzionale cioè nel senso se questi cicli di infiammazione che portano a una distruzione progressiva del tessuto si perpetuano in realtà il tessuto perde progressivamente la sua funzione base questo e poi potrebbe succedere che in realtà non vengono riconosciute ad esempio delle cellule dissidenti che si sono pregamente rovinate nella loro funzione e quindi si sono staccate dal funzionamento regolare del corpo e quindi queste cominciano a proliferare perché non c'è nessuno che le contenga in realtà cosa vi ho descritto vi ho descritto la progressione la formazione di quelle che sono le malattie autoimmuni le malattie degenerative e le malattie oncologiche tutte malattie a carico del sistema immunitario ora io oggi con voi vorrei vedere diciamo come dovrebbero funzionare in realtà realmente tutti i meccanismi se funzionassero perfettamente vorrei vedere perché smettono di funzionare in realtà vi pongo già una domanda diciamo un quesito ma smettono veramente di funzionare ve lo metto così ok e poi vediamo se ci arriviamo e se no chiaramente ci prendiamo un'altra ora magari in un'altra serata per approfondirlo per spiegare come funziona il nostro sistema immunitario e come funzioniamo noi e quali sono gli stimoli che servono al nostro corpo per essere al massimo della performance in realtà dovremmo partire dalla nostra storia potrei partire tranquillamente in realtà dalla storia diciamo ancestrale della nostra terra cioè arrivare addirittura ai batteri ok cioè quando ancora in realtà l'essere umano come Homo Sapiens non era sulla terra ma diciamo che a noi ci basta semplicemente comprendere qual è la nostra storia da due milioni e mezzo di anni a questa parte per capire in realtà che ci sono ci sono stati tutta una serie di errori che noi abbiamo fatto per cui la nostra evoluzione in qualche modo ci è venuta contro allora ricordiamoci chi eravamo noi all'inizio prima ancora appunto che subentrasse il Sapiens in realtà noi eravamo molto simili ai nostri cugini scimieschi ok in realtà noi vivevamo sugli alberi tendevamo ad avere un'alimentazione diciamo di base comunque vegetariana mangiavamo sì ogni tanto la carne perché comunque non è mai stata esclusa dalla nostra alimentazione ma non era predominante con il tempo in realtà le condizioni del nostro del nostro habitat sono andate a cambiare e questa nostra vita diciamo non era più in grado di supportare la nostra la nostra come si dice sopravvivenza e quindi abbiamo dovuto in qualche modo arrangiarci mettiamola così quindi abbiamo dovuto trovare adattarci alle nuove condizioni e trovare nuove risorse per poter sopravvivere questa cosa ci ha portato in realtà ad essere ciò che siamo nel senso il nostro cambio alimentare cambio di abitudini in realtà ha spinto il nostro cervello a funzionare sempre meglio quindi in realtà la nostra specie si è ritrovata con un'arma l'unica arma in realtà della nostra specie in natura perché in realtà non abbiamo artigli non siamo particolarmente forti non siamo particolarmente veloci non abbiamo delle grosse zagne e quant'altro in realtà l'unico vantaggio evolutivo che avevamo era questa cosa qui che in realtà più diventavamo bravi ad adattarci all'ambiente in cui ci troviamo e più funzionava meglio riuscivamo a creare comunità sempre più grandi che ci hanno permesso di sopravvivere anche in mezzo ai leoni ok ma anche strumenti che in realtà prima che nessun animale era in grado di produrre quindi diciamo che questa nostra capacità questa qui dentro ok ci ha permesso praticamente la sopravvivenza ma ma perché c'è un ma noi ci siamo trovati in un momento nel quale in realtà la nostra super consapevolezza diciamo delle nostre potenzialità ci è tornata indietro a livello di qualità di vita cioè nel caso ci siamo ritrovati che in realtà da che cominciavamo ad essere sempre più forti sempre più competitivi all'interno dell'ambiente ci siamo trovati sempre più malati sempre più stanchi ma quando è iniziato questo processo? In realtà c'è un momento ben preciso della nostra storia ed è risale a circa tra i 30 e i 20 mila anni fa questo momento vede l'ingresso progressivo e graduale di una attività che prima non esisteva che era l'agricoltura l'agricoltura e l'allevamento in realtà prima non esisteva noi eravamo cacciatori eravamo raccoglitori eravamo nomadi quindi diciamo che giravamo seguivamo le mandri essenzialmente lo spostamento delle mandri a un certo punto diciamo che si colloca in realtà dopo l'era glaciale dopo l'era glaciale abbiamo iniziato a coltivare perché abbiamo avuto questa esigenza perché comunque l'era glaciale aveva distrutto un monte delle mandri delle quali noi praticamente ci cibavamo ma soprattutto ci aveva dato un senso di impotenza di fronte alle fluttuazioni della natura quindi siamo stati alla ricerca di un qualcosa che ci permettesse di avere cibo sempre la condizione di avere cibo sempre è una condizione che non esiste in natura in natura esistono le stagioni quindi cambiano cose esistono appunto gli spostamenti delle mandri quindi non esiste niente di realmente costante in natura ma noi abbiamo sentito questa necessità un po' per comodità un po' per pigrizia in realtà l'essere umano è un essere che ha delle caratteristiche molto particolari tra cui appunto la ricerca della comodità diciamo come si dice minimo sforzo per il massimo rendimento questa cosa se all'inizio ci ha portato un vantaggio in realtà con il tempo ci ha portato a diciamo esasperare questo bisogno fino ad arrivare al fatto che non ci va neanche di alzarci per andare a fare la spesa e procacciarci il cibo e magari ci facciamo spedire a casa le cose da mangiare ok o ci facciamo dire che cosa dobbiamo mangiare da qualcun altro cioè diciamo che la nostra comodità è diventata un'eccessiva pigrizia e questa cosa chiaramente che cosa ha fatto ci ha portato a diventare obesi ci ha portato a staccarci da quelli che sono il contesto diciamo reale della nostra vita come Homo Sapiens quello che che cosa mangiavamo quindi quando eravamo diciamo ancora degli animali mettiamola così che ancora non avevamo messo in gioco tutta la nostra conoscenza mettiamola così noi mangiavamo per lo più carne questo qui è la base era la base della nostra alimentazione quando capitava che ci trovavamo vicino a degli specchi d'acqua c'era il pesce quando capitava c'erano le uova stagionalmente c'erano dei frutti quindi capitava soltanto a livello di stagione ci capitavano le bacche le radici qualche foglia che in realtà erano le nostre vecchie verdure cioè le verdure come le conosciamo noi le abbiamo inventate negli ultimi secoli non è una cosa che ci ha accompagnato per sempre facciamo l'esempio molto banale delle carote noi pensiamo alla carota come una cosa dritta arancione in realtà la carota era una radice come le radici delle piante che noi coltiviamo nei vasi era marroncina era tutta striminzita e non era tutta bella turgida e piena di nutrienti come è adesso la nostra carota quindi in realtà l'abbiamo inventata noi la carota così com'è e così anche molte verdure quindi quello che noi chiamiamo verdura in realtà non era così come la conoscevamo poi che cos'altro facevamo per stare bene perché noi appunto abbiamo detto che prima dell'agricoltura stavamo molto bene mangiavamo veramente tanto cioè dopo la caccia non potendo conservare tutta quella tutta quella carne perché non avevamo i frigoriferi non avevamo ancora scoperto la conservazione sotto sale e altri mezzi per conservare chiaramente ci dovevamo sbrigare a mangiarlo prima che si rovinasse quindi noi quando c'era da mangiare noi mangiavamo tantissimo a sazietà cioè non veramente fino a che non avevamo la pancia piena ma proprio piena 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 non mangiavamo e poi che cosa facevamo dopo che era finito tutto questo tra una caccia e l'altra digiunavamo quindi noi facevamo praticamente periodi di grande alimentazione e poi digiuno quindi diciamo che questo contesto qui storico ci fa capire che noi avevamo un buon apporto proteico avevamo enorme quantità di grassi perché in realtà gli animali che non mangiavamo tanti milioni migliaia di anni fa in realtà erano molto più grassi di quelli che mangiamo adesso mangiavamo pochi carboidrati appunto quel poco che ci capitava dalla frutta stagionale ok e digiunavamo queste sono le caratteristiche della nostra alimentazione ancestrale quando il nostro corpo era al suo massimo della performance oggi invece che cosa mangiamo mangiamo cereali latticini legumi mangiamo grassi industriali cibi elaborati ok mangiamo poca carne anche se comunque la narrazione dice che ne mangiamo tanta non è vero ne mangiamo veramente molto poca rispetto a quello che è lo standard a cui è abituata la nostra specie mangiamo relativamente poco pesce mangiamo qualche qualche verdura qualche frutta ma in realtà mangiamo veramente molto poco di tutto quello che era il cibo che ci ha accompagnato per milioni di anni questa cosa questo spostamento diciamo alimentare che noi abbiamo abbiamo compiuto ci ha portato a mangiare tantissimi zuccheri ma proprio tanti 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 rispetto a quello che era abituato il nostro corpo in natura abbiamo iniziato a mangiare dei grassi che non erano in grado di dare il giusto la giusta struttura al nostro corpo e a fornire una adeguata energia cibi altamente infiammatori pieni di antinutrienti ok ma soprattutto cibi privi di struttura ora diciamo che il discorso del cibo si basa perché il nostro corpo si nutre cioè qual è la motivazione per quale noi mangiamo in realtà noi mangiamo il corpo mangia per due motivi perché ha bisogno di mattoni per ricostruirsi quindi un motivo strutturale o un motivo energetico ok cosa è successo mentre noi prima mangiavamo energia pura naturale ok che veniva dagli animali dalle piante che noi mangiavamo eccetera eccetera noi adesso quell'energia in realtà è assolutamente mischiata ok con tutti i antinutrienti e cibi altamente processati che il nostro corpo non riesce ad assimilare quindi è intrappolata in questa rete di cose non assimilabili per cui noi non abbiamo possibilità di attingere in modo efficiente per contro questa nonostante ci sia comunque un'abbondante energia anche se incapsulata in questa rete di sostanze che ci impediscono di attingere a questa energia in realtà una cosa che non c'è all'interno dei nostri cibi è la struttura quindi manca tutta la componente diciamo utile perché il nostro corpo si possa rinnovare e quindi noi ci ritroviamo con un concetto che viene detto di calorie vuote vuote di cosa? Vuote in realtà di un significato biologico per il nostro corpo perché abbiamo detto che come si dice l'energia non ci possiamo attingere e poi questa energia non è all'interno di cibi che ci possono dare anche struttura questa cosa quindi la quantità enorme di zuccheri la povertà diciamo della struttura del nostro cibo ha portato al sistema mente-corpo un messaggio perenne di fame quindi noi mangiamo in continuazione quindi noi anche se abbiamo appena finito dopo mezz'ora ricomincia lo stimolo della fame questo perché perché in realtà il corpo si ritrova costantemente nella sensazione che gli manchi qualcosa e questo qua è il motivo per il quale la nostra società è bulimica a tutti gli effetti nel senso non riesce a smettere di mangiare e questa cosa è uno dei processi per i quali noi ci ammaliamo ok mangiare troppo mangiare male in realtà interferisce con il sistema immunitario in modo proprio drammatico drammatico in modo estremamente drammatico perché perché il nostro sistema immunitario per il 70% è concentrato nel nostro tratto gastrointestinale quindi è chiaro che se un sistema immunitario è concentrato nel nostro apparato digerente praticamente per la sua massima parte e noi stiamo sempre perennemente digerendo è chiaro che praticamente tutte le altre funzioni del nostro sistema immunitario non riescono ad essere diciamo svolte e quindi noi ci ritroviamo non riesco a capire ma io non riesco più a stare bene c'è stato un momento nella mia vita nel quale io ho smesso prima stavo bene e poi sembra come se ci fosse stato un prima e un dopo in realtà quel prima e dopo è un punto di rottura nel quale il corpo dice io non ce la faccio più basta un po' come una segretaria troppo berata dice vabbè io me ne vado prende e se ne va e lascia il lavoro così incompiuto la stessa cosa accade al corpo a un certo punto quindi in realtà noi non ci ammaliamo mai dalla sera alla mattina questa qua è una cosa molto importante da consapevolizzare non ci ammaliamo mai dalla sera alla mattina noi ci ammaliamo con il tempo c'è soltanto un momento dalla sera alla mattina che il corpo decide basta non reggo più il tuo gioco ok questa cosa è molto importante ora andiamo a definire che cos'è il tumore perché il tumore è una cosa che se ne parla tanto ci sono diversi correnti di pensiero in realtà su che cos'è che cosa lo genera che si sono sviluppati tantissimi protocolli per la cura per le cure oncologiche per supportare anche le cure oncologiche in realtà il tumore sono delle cellule che si sono staccate dalla regolazione diciamo delle altre cellule e hanno iniziato di nuovo a proliferare la caratteristica della proliferazione non regolata ce l'hanno soltanto le cellule staminali che in realtà non è non regolata in realtà loro non è che proliferano così quando gli pare cioè la regolazione c'è sempre ma sono le uniche ad esempio le cellule staminali che possono prendere parte a qualsiasi parte del nostro corpo se vengono iniettate nel fegato diventano cellule del fegato se vengono iniettate nel pancreas diventano cellule del pancreas in realtà tutte le altre cellule del nostro corpo hanno un ruolo prestabilito la cellula del fegato deve fare la cellula del fegato quella del pancreas deve fare la cellula del pancreas non è che la cellula del pancreas si sveglia e dice vai oggi voglio trasformirmi nel fegato una cosa del genere non lo può fare se lo fa alcune volte lo fa diventa un tumore ok quindi le cellule non possono decidere alzarsi la mattina ma oggi voglio cambiare lavoro ok non è possibile all'interno del nostro corpo questa cosa non è possibile se non appena appunto la difficoltà in realtà l'attivazione di tutta una serie di processi che servono in realtà per riportare tutto quanto in equilibrio se questi processi sono attivi e sono ben vigili se in realtà sono distratti da un processo infiammatorio costante che porta il corpo in allerta in realtà questo processo di pulizia e di riordino e di regolamentazione delle cellule dissidenti ok non avviene e quindi c'è la progressione ora voglio voglio chiedere a qualcuno non lo chiedo a persona ma quindi chi vuole rispondere mi risponde ok che cos'è chi è che mi vuole dire che qual è il contrario di oncogenesi buttatevi non vi preoccupate non do voti ok non sono una professoressa però voglio capire se magari c'è qualcuno che già si è fatto un'idea di che cosa può essere un possibile contrario di oncogenesi non mi fate chiamare vi prego niente endogenesi endogenesi no ma ti ringrazio per aver risposto grazie è apoptosi cellulare no Rossella ma ti ringrazio per aver risposto origine origine Rocco spiegami che cosa cosa intendi da dove arriva la cellula impassita seguire il suo percorso ok quindi il contrario di oncogenesi secondo te è andare all'origine cioè ricercare da dove è partita ok se è partita da una cattiva alimentazione da un inquinamento di ogni genere l'acqua il cibo ok inquinamento elettromagnetico seguire la parola genet significa origine no ok 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 può andare può andare ma ancora non è quello ci vuole provare qualcun altro non può essere semplicemente salute no anche se comunque allora vi dico una cosa in realtà tutti quanti state dicendo un qualcosa di non totalmente errato ma vi dico il contrario di oncogenesi è l'embriogenesi cioè il processo che è il contrario dell'oncogenesi è l'embriogenesi che cosa è l'embriogenesi qualcuno lo sa dai che siete stati bravissimi una cellula che si sta sviluppando bravissima bravissima Michelina allora lo sviluppo dell'embrione quindi diciamo dell'organismo complesso come sono io che sto parlando come voi che siete voi che state ascoltando ok partendo da una singola cellula questa singola cellula è onnipotente come Dio ok è onnipotente che cosa vuol dire che è onnipotente questa cellula in realtà questa cellula non solo può fare qualsiasi parte del nostro corpo ma in realtà potenzialmente può anche costituire più organismi questo accade ad esempio nei gemelli omozigoti che nascono da uno stesso zigote ok si separano e si formano dalla stessa cellula due individui quindi è veramente onnipotente però questa onnipotenza di questo zigote in realtà man mano che diventa che si divide comincia a perdersi e comincia quel processo che si chiama di specializzazione quindi da un processo di da una condizione di onnipotenza diventa totipotenza e diventa poi cellula specializzata del distretto X del nostro corpo ok questo processo in un momento X della nostra vita soprattutto nel momento in cui magari si comincia a sviluppare un tumore che cosa succede? succede il contrario una cellula si stacca dal meccanismo regolatorio che l'ha resa specialistica questa ricomincia a proliferare in modo incontrollato non regolato dal corpo ok comincia a proliferare proliferare ma quando è prolifera in realtà la cellula perde la sua specializzazione quindi in qualche modo regredisce ok per questo che vi dico che il concetto è l'opposto ok quindi in qualche modo il tumore è come se le cellule che gli appartengono hanno perso la loro specializzazione e ne stanno trovando un'altra all'interno della massa tumorale questa cosa tra l'altro è stato sorprendente perché nelle masse tumorali quelle più grandi in realtà si sono scoperte ad esempio dei denti o pezzi di fegato o pezzi di stomaco e tu dici ma che cosa strana cioè nel senso praticamente queste cellule si sono staccate e stavano creando una loro nuova un loro nuovo individuo in qualche modo poi magari non sono riusciti a completarlo però c'era questa nuova riprogrammazione all'interno della massa tumorale ok quindi abbiamo visto che c'è un processo di specializzazione e c'è un processo di despecializzazione e proliferazione incontrollata per poi in realtà alcuni tumori soprattutto quelli che progrediscono di più chiaramente vanno quasi a riprogrammarsi di nuovo in un altro equilibrio equilibrio ok questa cosa chiaramente è spettacolare cioè nel senso se uno ci ragiona è un qualcosa di dice cavolo quanta potenza c'è all'interno del nostro corpo e c'è tutto questo cioè nel senso vuol dire che ci sono delle cellule che erano del fegato noi abbiamo detto che non si poteva fare in realtà non è vero si può fare ci sono delle cellule del fegato che hanno deciso di staccarsi magari da quella lì e hanno formato una massa si sono riorganizzate formando in realtà altri tessuti se noi riusciamo a capire come il corpo perché l'ha fatto ad esempio qual è la motivazione quali sono gli stimoli che ha ricevuto perché ha sentito quella cellula il bisogno di staccarsi e lì diciamo che ci troviamo in una condizione di man mano che andiamo a consapevolizzare questo processo in realtà troviamo anche gli strumenti per poterlo diciamo comandare ok per poterlo in qualche modo riprendere controllo su questa cosa che in realtà appunto ci sembra un qualcosa di impossibile da poter tenere sotto controllo quindi che cosa da dove nasce il tumore da uno stimolo dannoso che genera praticamente uno scollamento di una cellula o di più cellule che perdono la regolazione del corpo e dà l'incapacità del corpo di smaltire tutte queste cellule diciamo che non non sono più in equilibrio e quindi praticamente loro proliferano in disturbate queste qua sono le due condizioni che quindi uno stimolo che ha portato la cellula a decidere di staccarsi ok e il fatto che il corpo non riesca a riportarle all'ordine noi quindi che cosa dobbiamo fare primo dobbiamo cercare di capire quali sono questi stimoli che possono determinare la decisione della cellula di fare un po' come gli pare ok e secondo rendere più efficiente il meccanismo di riconoscimento di queste cellule in modo tale che il nostro corpo le rimetta in riga un po' come il cane pastore con le pecorelle no dove stai andando torna all'ovile ok e questa cosa chiaramente ci sono dei prima cerchiamo di capire quali sono gli stimoli e poi cerchiamo di capire quali sono gli strumenti con cui possiamo lavorare in modo totalmente naturale per riportare il nostro corpo alle sue funzioni base intanto gli stimoli principali che danneggiano il nostro corpo sono come giustamente aveva sottolineato Rocco ad esempio gli inquinanti chimici di qualsiasi tipo da quelli ambientali da quelli che sono presenti nei nostri cibi per questo che è molto importante sapere cosa mangiare come mangiare selezionare i cibi ok sono sono legati ad esempio agli antimutrianti naturali ad esempio perché i cereali e i legumi danno fastidio i cereali e i legumi danno fastidio perché sono i semi della pianta e i semi della pianta in realtà sono i cuccioli e la pianta che non ha artigli non può scappare non ha zanne come può difendere i suoi cuccioli se non mettendo delle sostanze che tendono a dissuadere gli animali a mangiarle e quindi che ne so gli fanno venire il mal di pancia o che ne so gli danno delle irritazioni ok diciamo con l'animale se capisce che il seme che il seme della mia pianta gli dà l'irritazione magari smette di mangiarlo o no noi siamo intelligenti e continuiamo a mangiarlo ok e poi il nostro corpo chiaramente sta male poi ci sono le radiazioni di tutti i tipi qualsiasi tipo di radiazione viene in mente dal cellulare dal computer davanti a cui siamo tutti quanti stasera ma anche i segnali radio ma siamo per esempio bombardati da radiazioni quindi diciamo che non basterebbe un trattato per elencare tutto quanto per esempio siamo in un forno a microonde che ci sta cuocendo praticamente ma poi ci sono le nostre abitudini del sonno non tutti ce l'hanno buone in realtà una scarsa ecologia del sonno fa male ad esempio i turni i turni al lavoro ok la scarsa attività fisica la vita la vita al chiuso ma anche gli stessi traumi ok quindi in base a come noi ad esempio liberiamo un trauma il nostro corpo e la nostra mente possono decidere di gestire la cosa in modo biologicamente coerente con il nostro vissuto di quel trauma quindi bisogna stare anche attenti a questo tipo di stimolo quali sono gli strumenti che noi abbiamo intanto a livello naturale sto parlando soltanto a livello naturale oggi parliamo solo di come stimolare in modo naturale il nostro corpo ci sono due due classi di strumenti uno totalmente naturale che praticamente è l'alimentazione diciamo antropologicamente corretta che è il digiuno e poi il lavoro sulla psicosomatica questi qua diciamo che sono gli strumenti che io massimamente uso con i miei pazienti poi ci sono altri strumenti dei quali io mi avvalgo però magari mando i miei pazienti da persone che che ne fanno uso e quindi possono aiutarli e sono tutti quelli che vengono chiamati strumenti di biohacking che cos'è il biohacking tanto hacking vuol dire hackerare hackerare vuol dire cercare di mettere un un tarlo ok all'interno di un meccanismo biohacking vuol dire rompere il meccanismo di degenerazione ok e riportare alla nostra biologicità ok diciamo che è una sorta di tecnologia che ci salva dalla tecnologia mettiamola così ok questi strumenti questi strumenti messi insieme ok sono in grado in realtà di ripristinare quelle che sono le in realtà naturali funzionalità del nostro corpo di autoguarigione in parte appunto come bloccando gli stimoli negativi e in parte stimolando il corpo nelle sue funzioni base ora io oggi vorrei concentrarmi sulla parte nutrizionale perché è la base non perché è la parte per forza più importante ma in realtà mangiando noi in realtà tante volte al giorno per adesso poi spero che con il tempo ciascuno di voi mangi comunque con una frequenza ridotta rispetto a quella che fa adesso in realtà praticamente la nostra attenzione quotidiana verso il cibo è praticamente regolare non è che ci dobbiamo ricordare diciamo di mangiare ok noi praticamente siamo totalmente bombardati da master chef come si dice le trasmissioni di cucina di ogni tipo e frigoriferi supermercati pieni di cibo e quant'altro quindi in realtà il cibo abbiamo molte promemorie molti promemoria in continuazione ora che cosa dobbiamo cercare di eliminare o quantomeno di ridurre nella nostra alimentazione sicuramente dobbiamo cercare di eliminare o ridurre drasticamente tutti i cereali tutti i latticini e tutti i legumi che sono praticamente quei cibi che noi abbiamo introdotto solo dopo l'agricoltura l'altra cosa dobbiamo cercare di togliere i grassi industriali quando dicono che i grassi fanno male io chiedo sempre quali grassi in realtà per dire i grassi come la margarina o i grassi non so se avete presente quelle taniche di oli gialli che io non metterei neanche nel motore della macchina però c'è gente che ci cucina ok quella roba lì non è neanche considerato cibo per quello che io sono i miei parametri ok e quindi questa cosa è estremamente dannosa utilizzarli addirittura per cuocere assolutamente sono estremamente deleteri e creano praticamente tutta una serie di strutture infiammatorie all'interno delle membrane cellulari delle nostre singole cellule per cui praticamente nascono già malate le nostre cellule quindi giusto per farvi capire quali danni possiamo fare dobbiamo cercare di evitare tutte le carni processate come facciamo a evitare le carni processate a parte non andare al McDonald's ok però a parte quello ma come facciamo a capire quando noi andiamo da un macellaio se il macellaio ci sta rifilando una carne che non è proprio buona una carne che non è proprio buona è una carne ad esempio che si restringe quando noi la mettiamo in padella sulla piassa sul barbecue oggi mi faccio una bella bistecca e poi ci ritroviamo con il medaglione piccolino piccolino diceva come io avevo fame e niente anche oggi si mangia domani questa cosa qua che cosa vuol dire vuol dire che l'animale da cui è derivata quella bistecca o comunque quel pezzo di carne in realtà è stato bombardato di ormoni allo scopo di far gonfiare i suoi tessuti di acqua e noi abbiamo comprato acqua al costo della carne poi chiaramente con il calore quest'acqua se ne va via e noi ci ritroviamo con la bistecca infeltrita ok questo è il primo diciamo modo per definire se la carne che noi stiamo mangiando è veramente buona il secondo parametro è se la carne scolorisce ma com'è possibile scolorisce no vabbè perde sangue non è che scolorisce no no scolorisce nel senso uno lo mette in padella insieme all'acqua esce pure un colorito rosa proprio rosa proprio fosforescente quasi ok quel colorito rosa che cosa può essere certo non è qualcosa di naturale semplicemente quella carne in realtà era già da buttare per non sprecarla gli hanno messo dei coloranti dei conservanti delle cose le hanno fatte sembrare di nuovo rossa di nuovo fresca e ce l'hanno venduta per buona ok e poi dicono la carne fa male io chiedo sempre quale ok stesso discorso per la carne di mare quindi il pesce il pesce deve essere non deve essere allevato che è l'equivalente praticamente delle mucche messe in batteria è uguale la stessa cosa se noi evitiamo quel tipo di carne dobbiamo evitare quel tipo di pesce e deve essere pescato pescato perché perché comunque quel pesce è vissuto nel suo habitat ha mangiato quello che è in natura il suo cibo specie specifico e quindi diciamo che ha un impatto inferiore al nostro sulla nostra salute l'altra cosa deve essere medio piccolo perché medio piccolo non vanno bene i super toni i super salmoni i mega pesce spade e quant'altro sono pesci troppo grandi vivono tanto e vivono tanto nei mari che noi abbiamo inquinato quindi non è colpa del pesce è colpa sempre dell'essere umano tra parentesi ok e tutto quello che abbiamo fatto per portare il nostro ambiente la nostra società in questa condizione però è anche vero che appunto vivendo di più questo pesce accumula magari più sostanze tossiche nei tessuti e noi mangiandole in realtà le mangiamo insieme al pesce quindi bisogna stare attenti quindi pesci medio piccoli e pescati carni grassi di allevamenti bradi ok evitare che restringano che scoloriscono eccetera eccetera che solo vuol dire che ci hanno rifilato della carne che non è buona ok non mangiare troppa frutta perché? perché la frutta contiene zucchero di che cosa si nutre il tumore? chi mi risponde? vabbè questo è facile vai e rispondi vai se è facile di zuccheri ok non è che si il tumore non è vero che si mangia le proteine la prima cosa che viene tolta a chi ha problemi oncologici è togliere le proteine ok in realtà il problema sono gli zuccheri perché? perché il metabolismo di una cellula tumorale è un metabolismo in realtà un po' come si dice un po' zoppo in realtà non ha un buon metabolismo una cellula tumorale e si approvvigiona di energia dagli zuccheri perché? perché sono più semplici da elaborare tutte le cellule sane invece gli piacciono più i grassi mentre la cellula tumorale dei grassi non ci fa niente perché non ce la fa metabolizzarli quindi per lei praticamente sono fonti energetiche praticamente nulle le nostre cellule sane in realtà sono ancora in grado di utilizzare i grassi per questo è importante mangiare i grassi buoni ok perdonami sì Rocco dimmi dico la causa dello zucchero è che porta alle cellule inacidosi non proprio non è proprio così allora il discorso dello zucchero è soprattutto perché alimenta sia le cellule sane che quelle malate noi invece dobbiamo trovare un cibo una fonte energetica che alimenta quelle sane ma non alimenta quelle malate ok in modo tale che quelle malate dopo un po' si trovano strozzate ok e smettono di fare diciamo le dissidenti mettiamola così ok quindi diciamo che dobbiamo farle in modo che queste cellule cambino il loro metabolismo in modo tale che vengono riconosciute dal nostro sistema immunitario e vengono buttate via tramite il processo apoptotico ok che è la morte praticamente della cellula se noi non riusciamo a fargli cambiare il metabolismo a queste cellule malate in realtà non vengono riconosciute dal nostro sistema immunitario e quindi continuano a proliferare questa era la vera motivazione per la quale dobbiamo cercare di togliere il più possibile le fonti di zucchero dal nostro corpo ok e sostituirle con quelle dei grassi l'altra l'altra cosa che dobbiamo stare attenti abbiamo detto la frutta la frutta in realtà è un tipo di zucchero che uno dice ma no ma la frutta fa bene perché contiene polifenoli eccetera eccetera blablabla tutte queste cose allora no la frutta contiene uno zucchero che si chiama fruttosio che stranamente viene il nome della frutta quindi diciamo che è abbastanza in assonanza ok il fruttosio è un bizucchero diciamo uno zucchero composto da due molecole di zucchero questo zucchero viene scisso nelle componenti singole dal fegato è chiaro che se noi mangiamo tantissima frutta perché fa bene che cosa succede che praticamente il fegato praticamente passa il suo tempo a tagliare queste molecole di zucchero in realtà il fegato ha delle funzioni estremamente nobili di disintossicazione del corpo che chiaramente noi dobbiamo fare in modo che lui si concentri su quello dice no non fare questo però se gli contiamo dare la frutta chiaramente lui dice beh io devo tagliare sto zucchero e cose varie si mette a fare quello in realtà lui deve pensare a disintossicarci soprattutto in una fase diciamo patologica nella quale ci troviamo magari già prendiamo farmaci e quindi questi farmaci appesantiscono e quindi il fegato dovrebbe smaltirli e invece sta a tagliare la frutta ok e quindi questa cosa bisogna stare molto attenti a che cosa introduciamo e sapere bene come si comporta il corpo di fronte a questo tra l'altro la frutta fermenta e la fermentazione tende a squilibrare il nostro microbiota che abbiamo detto essendo una parte delle componenti del nostro come si dice del nostro sistema immunitario andiamo poi a distrarlo ok e quindi ci troviamo con un doppio danno con l'idea di fare bene chiaramente però il danno è doppio ok l'altra cosa che non dobbiamo fare è mangiare in continuazione come dei ruminanti non siamo ruminanti se no faremo mu ok non siamo delle mucche ok quindi non abbiamo i quattro stomaci e quindi non dobbiamo mangiare in continuazione noi dobbiamo mangiare in modo intermittente fare più di due pasti al giorno non va bene considerate che il digiuno intermittente di per sé soprattutto quando è già subentrato il danno è ancora troppo poco come digiuno perché perché in realtà i processi di guarigione del digiuno subentrano dopo le 24 ore e quindi diciamo che noi dovremmo fare un digiuno addirittura più lungo delle 24 ore per riuscire a supportare realmente il nostro corpo nel processo di guarigione soprattutto da problemi oncologici soprattutto da problemi oncologici quindi diciamo che mangiare in continuazione assolutamente è l'ultima cosa che dobbiamo fare per quello che ci siamo detti prima il nostro sistema immunitario per il 70% all'interno dell'apparato digerente e quindi distrarlo costantemente con cibo perenne che deve essere selezionato e cose varie in realtà stiamo distraendo ancora una volta il nostro sistema immunitario dalla sua funzione principale che è quello di salvaguardare la nostra salute ok quindi queste qua sono le cose da evitare sono le cose da fare bisogna cercare quindi della carne buona che sia grassa che non restringa eccetera eccetera del buon pesce ok mangiare poca frutta della verdura mi stavo dimenticando la verdura allora la verdura si può mangiare diciamo che non crea grossi problemi bisogna stare attenti a due tipologie di verdure che sono le crucifere che è la famiglia delle verze dei cavoli dei broccoli e le solanacee sulla nacee la famiglia dei pomodori melanzane peperoni patate ok quella famiglia lì perché queste due famiglie a parte dare fastidio allo stomaco irritare l'intestino a parte creare dei problemi allergici a parte ok già abbiamo detto a parte a parte a parte in realtà sono anche gozzigene quindi creano alterazioni alla funzionalità tiroidea e quindi diciamo che dobbiamo cercare di limitarle il resto delle verdure tra cotte e crude dovete soltanto stare attenti che non disturbino il vostro intestino non dovete avere flatulenze dovete essere diciamo evacuare regolarmente ok e queste sono diciamo le basi nutrizionali per come nutrire il nostro corpo poi dato che io sono fuori dall'ora io mi fermo qui e vi chiedo se avete delle domande e magari la prossima volta vediamo come nutrire la mente che in realtà ne abbiamo altre cose e Marco ciao ma allora un vegetariano come me quasi vegano come dovrebbe fare col tumore ah bella bella domanda allora dipende tu perché sei vegetariano quasi vegano allora perché penso e credo a me sono 20 anni se un animale è un senziente non ti può cioè non mangiare gli animali da 63 anni e calcolare in meno 20 ma non mi tornava prima quando ho fatto questa scelta si è fatta tutta in casa la moglie e le figliole e ci siamo trovati almeno un pace con noi stessi perché vedere un animale uccidere per noi non esiste cioè non so se torna al mio discorso allora io ti dico questo io come ti rispondo come biologa quindi senza assolutamente dare nessun tipo di giudizio a ciò che tu hai detto come biologa quindi faccio fare delle considerazioni antropologiche evoluzionistiche ed ecologiche se mangiando carne noi riusciamo a mangiare molto di meno in realtà il nostro impatto sull'ambiente si riduce notevolmente perché perché rientriamo nei nostri equilibri cioè in realtà noi abbiamo abbiamo iniziato a mangiare così tanto perché abbiamo rotto l'equilibrio con l'ambiente noi prima mangiavamo bene ma in realtà quando mangiavamo mangiavamo ma poi non è che cercavamo altro cibo noi ci fermavamo con quello che ci saziava e ci fermavamo lì noi adesso non ci sazia più niente perché in realtà il cibo va a nutrire non solo la parte fisica in modo estremamente inefficiente proprio per tutto quello che ci siamo detti fino adesso ma va a nutrire anche la parte mentale che ci sono tutta una serie di carenze mentali che noi sfoghiamo nel cibo ok quindi in realtà ha una doppia valenza in realtà in entrambe le valenze che gli abbiamo dato al cibo gli stiamo dando comunque una connotazione sbagliata se noi invece riportiamo secondo il discorso adesso non so tu c'eri fin dall'inizio Marco giusto per essere sicura che hai seguito tanto il discorso dell'evoluzione dell'essere umano e tutto il resto no mi sono perso i primi dieci minuti perché per via delle Olimpiadi mi era passato ah mannaggia mannaggia e comunque avevo fatto tutto quanto un discorso antropologico nel quale in realtà l'essere umano ha trovato il suo massimo equilibrio con l'ambiente in realtà quando è passato alla carnivoria dopo quando ha smesso di nuovo di essere carnivore ha iniziato a mangiare cereali legumi e quant'altro praticamente è entrato in una fase bulimica a tutti gli effetti nella quale lui ha perso il controllo delle sue capacità di sentire i livelli di sazietà nel momento in cui noi torniamo a mangiare quello che in realtà il nostro corpo è predisposto a mangiare in realtà mangiamo molto di meno ti faccio un esempio della sottoscritta ok in realtà è quello che hanno riscontrato pure molti miei pazienti però ti faccio l'esempio mio che sono il paziente che conosco meglio essenzialmente io si parla ormai di undici anni fa io prima mangiavo di tutto ok tutto quello che passa al supermercato essenzialmente mediamente mangiavo mangiavo tra le cinque e le sei volte al giorno ok mangiavo veramente tantissimo ma in realtà stavo veramente molto molto male cioè mi faceva male la pancia avevo spesso coli che ero molto magra se mi vedete magra adesso sappiate che io prima pesavo dodici chili in meno ok diciamo che avevo veramente il corpo che non ce la faceva più non si leggeva in piedi io praticamente mangiando come diciamo l'essere umano dovrebbe mangiare perché la specie umana dovrebbe mangiare in quel modo praticamente adesso io faccio anche digiuni di più giorni senza sentire la necessità di di mangiare cioè io sto proprio bene nel farlo ok perché perché semplicemente si è spostato proprio metabolicamente ma anche psicologicamente ma anche a livello infiammatorio tutte le mie necessità verso un equilibrio che chiaramente io cerco di nutrire tutti i giorni insomma questo equilibrio poi capita lo sgarro cioè non è che etel non mangia mai un gelato ok ma cerco di fare in modo che non vada a rompere l'equilibrio che io ho trovato con il mio corpo la mia mente e cose varie diciamo che io devo poter sempre riuscire a fare i miei digiuni settimanali se io vedo che non ci riesco mi chiedo che cosa sto facendo che mi porta a non farli più e mediamente il motivo c'è eccessivi sgarri magari un eccessivo stress difficoltà magari a dormire io vado a riaggiustare tutte le varie i vari punti ok che adesso abbiamo oggi abbiamo visto molto accarrellata se no non riuscivo a finire entro l'ora ok però e non vi potevo fare delle domande e cose varie però in realtà i punti sono diversi e più noi andiamo all'equilibrio funzionale del nostro corpo e più praticamente andiamo in equilibrio con la natura meno impattiamo a livello ecologico e a livello e ciò che facciamo impatta di meno sulla nostra salute perché una cosa che è fondamentale nella natura non esistono figli o figli astri se noi stiamo bene vuol dire che in realtà il l'impatto che noi stiamo dando sull'ambiente è ridotto se noi invece stiamo male in qualche modo vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa ok poi è chiaro non voglio convincerti assolutamente a rinunciare al vegetarianesimo veganesimo ma ti invito comunque a riflettere su questa cosa e Christe sì mi senti sì sì ciao buonasera la mia domanda è questa per quanto riguarda io anche io sono una malata oncologica vabbè remissione completa per fortuna però adesso sì è stata una bellissima notizia e però ovviamente sto molto attenta per quanto riguarda l'alimentazione proprio per evitare quelle che sono no le conosciute purtroppo recidive no quindi insomma mi sta seguendo una insomma abbastanza conosciuta oncologa di San Marino che mi ha consigliato ecco che quindi con l'alimentazione integratori eccetera eccetera ora la mia domanda è questa proprio sui digiuni ma nel caso appunto di persone come me che hanno malattie o sono in remissione o hanno malattie oncologiche ogni quanto e quanto dovrebbe durare il digiuno cioè in settimana nell'arco di una settimana quante volte allora 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 a parte che chiaramente ciascuno di noi è veramente potrei farti ti faccio un discorso generico ok certo diciamo che nel tuo caso che sei in remissione per poter mantenere il risultato acquisito la priorità acquisita un po' come il call center ok diciamo almeno un digiuno di 42 ore a settimana sarebbe l'ideale e poi mantenere comunque un regime di digiuno intermittente quotidiano per mantenere diciamo l'ambiente corpo pulito e chiaramente non bisogna spacciare tra un digiuno e l'altro chiaramente poi non è che tra un digiuno diciamo che questa è la cosa poi diciamo che il discorso dove subentra in realtà nella tua domanda anche il fatto che che tipo di digiuno certo bisognerebbe vedere e valutare in funzione di quello di come a livello tipologico e a livello fisico che tipo di digiuno sostieni in realtà andare in quello più diciamo più forte che ti consente il tuo corpo ok comunque cercare sempre di spingere il corpo sempre al massimo possibile chiaramente non dove il massimo possibile dipende da ciascuno di noi essenzialmente io ho fatto anche sette giorni di digiuno secco cosa che per molte persone dice ma come hai fatto ma non sei morta dico no vi sto parlando non sono morta sto qua ok però alcune persone per dire sembra una cosa oh dio santo che cosa è una cosa che si si dipende anche dal fattore psicologico anche va bene grazie grazie mille grazie grazie a te ciao ciao e Rocco ci sei Rocco puoi parlare ecco sì volevo dire cosa ne pensi sull'abbinamento dei cibi sì e sul pH dell'organismo allora belle domande entrambe allora abbinamento dei cibi in realtà se siamo in natura è quasi provocatoria la mia domanda poi ti spiego perché allora io spero di darti una risposta che ti stupisca in realtà perché in realtà la tua domanda diciamo che io rispondo in modo molto diverso rispetto agli altri nutrizionisti per quanto riguarda l'abbinamento dei cibi in realtà se uno rimane nei cibi naturali l'abbinamento tra virgolette non è più necessario cioè nel senso viene da sé ok perché perché in realtà se noi stiamo in cibi appunto proteine pesce e quant'altro in realtà anche se noi li mettiamo insieme non succede niente ok è chiaro che se noi dobbiamo mangiare il piatto di pasta dobbiamo in realtà abbinarlo perché oppure mangiarlo prima mangiarlo dopo perché chiaramente deve avere un impatto inferiore sulla nostra glicemia e quant'altro ma dato che noi naturalmente il piatto di pasta non dovremmo mangiarlo ok in realtà il problema abbinamento per me diciamo l'unica cosa che chiedo ai miei pazienti è quando mangiano qualcosa di zuccherino di abbinarlo con dei grassi ok zuccherino per me vale anche per dire il miele o la frutta ok abbinarlo comunque con qualcosa di grasso in modo da ridurre l'impatto di glicemico nel corpo però per il resto per me si può abbinare tutto quanto invece per il discorso pH il pH è forse uno dei parametri più importanti del nostro corpo cosa vuol dire vuol dire che il nostro corpo praticamente mantiene il suo pH sistemico in uno strettissimo range ok questo strettissimo range non può essere violato in nessun modo tant'è che il nostro corpo ha tutta una serie di sistemi di regolazione che mantengono omostaticamente il pH all'interno di questo range quindi può oscillare ma sempre all'interno di questo range ok il discorso dell'alcalinizzazione ad esempio non dipende praticamente mai dai cibi io questa cosa all'inizio sull'alcalinizzazione c'era una marea di libri sull'alcalinizzazione all'inizio ci credevo dicevo no bisogna mangiare le verdure perché alcalinizzano e quant'altro in realtà non è così perché in realtà il nostro corpo trasforma tutti i cibi quindi i cibi che sono alcalini fuori dal corpo in realtà dentro al corpo potrebbero non fare l'effetto che noi diciamo ok che pensiamo che facciano e quindi questa cosa in realtà rompe tutti quanti i meccanismi ma ma in realtà una cosa che in pochi sanno il meccanismo che mantiene maggiormente stabile il nostro pH sistemico è la respirazione cioè in realtà respirare male genera una variazione di pH maggiore che non mangiare che ne so una bistecca poi è chiaro se insieme alla bistecca te mangi due mozzarella te mangi un piatto di pasta con i pomodori e cose varie è chiaro che lì forse l'alimentazione può compromettere in qualche modo ma di per sé ok un alimento naturale anche diciamo a pH acido come può essere la carne sto parlando di alimento naturale ok in realtà non è significativo a livello sistemico perché in realtà noi abbiamo dei sistemi tampone potentissimi ma veramente potentissimi che riescono a stabilizzarlo però dobbiamo respirare bene tant'è che all'interno dei miei collaboratori c'è anche un ragazzo che segue i miei pazienti sulla respirazione perché molte persone non sanno respirare cioè respirano quel tanto che basta per la sopravvivenza ma non per l'autoregolazione sistemica spero di averti risposto Rocco spero che ti sia piaciuta la risposta grazie di niente Silvia no Silvia ha abbassato la mano si ci sei ah no per sbaglio anziché aprire il microfono ho tolto la mano comunque buonasera io ho una domanda vorrei sapere così per farmi un'idea quali sarebbe la tua dieta diciamo tipo non so se già l'hai spiegata allora sì l'ho già spiegata tu a che punto sei arrivata dopo i 15 minuti c'è in senso una dieta l'ho detto nell'ultima cosa che ho detto cosa eliminare e cosa prediligere quello lì è diciamo la base poi dalla base chiaramente ciascuno di noi ha le sue problematiche faccio un esempio ci sono persone ad esempio che prendono più farmaci di altri devono stare un po' più attenti magari al fegato ci sono persone che magari hanno delle problematiche renali devono stare più attenti ad alcune cose rispetto ad altre ci sono persone magari allergiche però la base ok è quella che ho detto alla fine cosa eliminare e cosa prediligere è quella lì come base ok poi la personalizzazione dipende proprio da persona a persona ad esempio per chi ha problemi di sbiosi grave ci sono delle piccole accortezze in più da dover tenere ma quella lì è proprio puntiforme ok c'è qualcosa che non ti è chiaro dimmi tranquillamente puoi approfondire la domanda se vuoi sì sì no questa parte l'ho capita quindi ok e poi vorrei anche sapere ma quando hai parlato di digiuno secco quindi tu bevi soltanto quella settimana in cui sei stato in digiuno secco quando è digiuno secco non bevo proprio perché secco vuol dire senza acqua però considera che quello lì è una cosa come ho risposto anche a Christe che dipende da persona a persona sia dalla predisposizione mentale ma anche da eventuali problemi fisici che ci possono essere quindi diciamo che in realtà si fa tutto con enorme gradualità fino a che appunto non si prende confidenza con lo strumento ok c'è proprio uno svezzamento al digiuno io l'ho proprio programmato con l'ho scritto anche in alcuni miei libri nel quale praticamente piano piano porto le persone ad allungare il digiuno e a renderlo un po' più stringente più il digiuno è stringente più in realtà va a stimolare il sistema immunitario più appunto introduciamo cose mentre che ne so dice ma posso prendermi una tisana ma posso prendermi acqua e limone ma posso prendere le integrazioni più aggiungiamo cose al digiuno in realtà più perde di efficienza ok quindi diciamo che però è chiaro che uno fa gradualmente non è una cosa che si può soprattutto quando ci sono dei farmaci in mezzo è una cosa che va fatta proprio step step quindi questo interessante grazie di niente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti